Anche perché non fa in tempo a finirne una che ne ricomincia un sfido o un'altra, però lo sapevamo, siamo state brave e nonostante l'emozione iniziale, le prime difficoltà e tutte a tenere botte, abbiamo portato i tre risultati, direi, ottimi. Quando ti ha messo in difficoltà l'Argentina stasenove? Era vero che sembra stata molto facile e non c'è stato un momento? Sì, sono stati alcuni momenti nel primo e nel secondo set dove eravamo tanto avanti, ci siamo fatti un po' riprendere, calando un po' la tensione, comunque brave a tenere botte. Ti aspettavate un emozio così? Sì, ci speravamo, sicuramente sì. Certo non è a dirlo più semplice che a farlo, magari il 3-0 forse non rende, ma è comunque un lavoro duro. Grazie.